Mi sono chiesto come fare a raccontare il tema del contrasto alla dispersione scolastica in musica. Riusciamo a creare un cortometraggio con studenti reali e docenti reali all'interno di un mondo che è la scuola che quindi deve essere priva di finzione ma naturalmente raccontare ciò che accade. Sì, Alex è possibile fare tutto. Mi ha colpito la partecipazione corale come se fosse un grande gioco. Quando vedi persone che ci mettono tutto il loro amore, il loro affetto tu puoi solo aspettarti grandi cose. È stata un'esperienza che mi porterò per sempre dietro. Vedere ciò che hai realizzato e proposto in uno schermo gigante con più di 600 persone lì a guardare è stato molto toccante diciamo. La musica è quel linguaggio universale che riesce ad arrivare con più facilità alle giovani generazioni. Vola alto, voi valete. Scusate ma mi emoziono in modo straordinario, complimenti. È una mission quella di seguire e di incentivare le nuove generazioni sia a livello sociale che culturale ma soprattutto musicale. Io ci ho messo un po' a realizzare ciò che avevamo fatto. La chiave per affrontare la dispersione scolastica risiede nella capacità di stimolare la passione. Sono stato fortunato di essere circondato da persone molto brave, simpatiche. La chiave per affrontare la commissione Sono statili diaguernici tra corsa